Amici bergamaschi, cari amici bergamaschi, io so che il 14 e il 15 al Cinema del Borgo alle ore 21 ci sarà perdutamente mentre al Concaverde sarà il giorno 16 sempre alle ore 21, quindi Cinema del Borgo alle ore 21, il 14 e il 15 febbraio Cinema Concaverde 16 febbraio alle ore 21, non perdete, ma perdetevi dentro perdutamente, non è un gioco di parole è un film che ha qualche pezzettino di cuore mio, qualche goccina di sangue e anche qualche lacrima non solo mio ma anche di tutti coloro che l'hanno fatto, di Ivana Di Biase che ha condiviso la regia con me questi 18 mesi di ricerca di lavoro e di speranza anche perché dall'Alzheimer non si guarisce ma c'è anche un'altra cosa dalla quale non si guarisce dell'amore e non è un film sulla malattia, non è un film sulla morte è un film sull'amore e sulla vita attraverso la malattia che è ben diverso siamo in pandemia quindi è due anni che parliamo tutti di malattia ma pochi parlano di salute è due anni che parliamo di morte ma pochi parlano di vita io credo che si possa parlare ancora di questi temi, si possa fare anche al cinema quindi intanto andate al cinema, fate un gesto rivoluzionario, abbandonate la mediocrità e andate al cinema recatevi in un posto per ascoltare una storia e se avete voglia fate un bel sospiro e concedetevi la voglia di lasciarvi andare perdutamente è un film che credo non vi deluderà, è un film che parla di cose belle anche senza farla apposta è un film che risolve tutto perché forse insomma alla fine il senso della vita è proprio quello e forse chi è malato di Alzheimer è come se l'avesse capito che il senso non è vivere ma è amare e chi soffre di questa terribile malattia forse sa che appunto magari si può dimenticare chi è quella persona ma si ricorda bene che la ama anche se non sa perché è questa forma lirica di amore che rende i malati di Alzheimer degli straordinari e degli eccezionali innamorati disperati come l'amore forse vi abbraccio forte e vi ringrazio se avrete voglia di vedere questo film al cinema perdutamente 14, 15 e 16 vi ho dato già riferimenti quindi grazie, grazie, grazie vi ringrazio infinitamente e perdutamente ciao da Paolo Ruffini